Alleluia, 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 alleluia. Bella a tutti ragazzi e bentornati qui da Marti Bucerchiato in questo nuovissimo post partita. Cioè quella che ho visto domenica è stata una Sampdoria che ha vinto 3 a 1 contro Alberona con ben tre reti e Amarassi. Cioè io una Sampdoria a vincere in casa in questo modo non la vedevo praticamente da quando avevo 13 anni. Quindi l'ultimo risultato positivo in casa se non sbaglio è stato quel 4 a 1 contro la Fiorentina. Cioè veramente mancava questa vittoria. Mancava soprattutto, sono tre punti fondamentali sia per il morale ma anche per la classifica perché abbiamo vinto contro una diretta concorrente per la salvezza. quindi adesso siamo a meno 9 dallo Spezia quindi la salvezza ancora è possibile dopo questa vittoria contro Alberona. Ripeto, la salvezza è ancora possibile ma bisogna continuare così con costanza. Dobbiamo continuare a vincere le partite contro le squadre alla nostra portata ma anche provare a portare a casa almeno un punto nelle partite in cui meno te lo aspetti come per esempio nella prossima giornata contro la Roma. Una Roma con ben tre difensori squalificati quindi non è così impossibile alla fine. Parlando invece della partita abbiamo portato a casa i tre punti è vero però per quanto riguarda l'atteggiamento in campo non ci siamo proprio ragazzi non ci siamo proprio. Te non mi puoi dopo aver fatto un primo tempo spettacolare scendere in campo nel secondo tempo o con tutta un'altra mentalità. Tu non puoi pensare che dopo aver fatto due gol nel primo tempo allora hai già vinto la partita. No, no, non puoi, non puoi. Non è assolutamente possibile. Infatti se Gaic non fosse stato in fuorigioco di due metri in entrambi i gol e se fosse stato un pelino più indietro a quest'ora ci avrebbero fregato la partita e ci sarebbe pure stato bene se avessimo perso perché se tu scendi in campo nel secondo tempo con dei morti viventi è giusto che vai a perdere le partite. Per una volta però la fortuna ci ha graziato però ragazzi mamma mia che fatica, che fatica. Cioè io penso che dopo questa partita non ho mai sofferto così tanti in vita mia. Parlando invece degli MVP della partita sicuramente, ma è anche una scelta obbligatoria a vicimetto Manolo Gabbiadini fenomenale, fenomenale che poi, piccola parentesi nel secondo gol ma che bomba calciato sotto l'incrocio cioè allora qua bisogna ringraziare Tamez però a parte tutto ho gran bel gol gol fantastico ho grande Manolo perché questi 51 gol in Maia Blucerchiata te li sei proprio meritati. Altra doppietta dopo quella contro il Monza e direi che se abbiamo vinto e soprattutto grazie a lui altro che si merita il podio a mani bassissime è sicuramente Alessandrone nazionale ma ragazzi ma quanto cacchi è forte Zanoli ma quanto cacchi è forte Zanoli 97 minuti e 30 secondi sul cronometro tra l'altro qua l'arbitro doveva fischiare ma questo è un altro discorso parte il contropiede tra l'altro bravissimo anche che se che vola come un razzo verso la porta avversaria arriva Zanoli come una freccia che se lo serve Zanoli tutto solo ed è il gol della chiusura della partita tra l'altro sotto la sud e quindi la gradinata è giusto che esploda e dopo questa Zanoli deve giocare titolare fisso fino alla fine del campionato non voglio vedere questo ragazzo in panchina un minuto di più e quindi il terzo e ultimo MVP di questa partita non poteva che rispondere al nome di Bram Nointink perché in questa partita anche se non è sicuramente la prima volta Nointink fa vedere a tutto il pubblico blu cerchiato ma anche giallo blu o la sua leadership e la sua esperienza basta guardare il suo salvataggio sulla linea al tiro del Veronese adesso mi ricordo chi era ma oltre a questo veramente Nointink ha giocato una gara stratosferica veramente con lui in difesa non passava nessuno ripeto non è la prima volta perché fin dal primo giorno che è arrivato qua alla Samp che ha sempre dato il 300% per questa maglia complimenti per oggi è tutto ragazzi teniamoci stretti questi tre punti Dora e Butei sempre a Fradei Forever Together e niente vi ricordo ancora una volta di iscrivervi al canale lasciate un pollicione in su e fatemi sapere la vostra con un scusate con un commento qua sotto mi raccomando continuate a credere nella salvezza perché lo so che è difficile ma finché la matematica non ci condanna ancora tutto è possibile sempre forza Samp ciao ciao